Comunque, veniamo finalmente al momento credo più atteso, che è anche il momento intellettuale della mattina. È cresciuto in aziende americane, ma da più di 15 anni lavora in aziende familiari italiane. È stato direttore generale di Barilla e amministratore delegato di Bolton. In tutti questi anni, ogni 3-4 anni, ha scritto un libro per condividere le sue riflessioni, prima sul marketing, poi sul mestiere del manager e, da ultimo, sulla leadership. Attualmente svolge attività di consulenza anche per fondi di investimento, di formazione ed è vicepresidente del gruppo Feltrinelli. Signori, Giuseppe Morici. Grazie, grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Il momento intellettuale è una, diciamo, un'aspettativa importante. Io sono molto felice di essere qua al Quoa. Erano tantissimi anni che ho sentito parlare di questa istituzione del Nord-Est e non c'ero mai venuto, quindi vi ringrazio anche per questo. Il Nord-Est è un posto fantastico che in questo mio periodo di peregrinare per l'Italia sto scoprendo. Sono stato a Venezia, ovviamente, a Padua, parlo ovviamente per occasioni professionali, non turisti. A Verona, in realtà, sono stato recentemente, ma perché Cozzalone, quindi non so se vale come cosa intellettuale. E oggi sono qua a Vicenza. Il Nord-Est è un posto speciale, anche perché è l'unico posto al mondo in cui si fanno eventi in cui non ci sono coffee break la mattina. A Milano, in realtà, si organizzano cose così solo per fare i coffee break. E quello che succede nel convegno è quello che succede prima e dopo il coffee break. Ma è anche un posto straordinario perché si fanno le carrozzine più belle del mondo che io per generazioni ho pensato fossero inglesi e ho scoperto oggi che in realtà sono italianissime. Il Nord-Est, io sono terrone, quindi il Nord-Est e il Nord-Ovest non esistono per i Terroni. Il Nord è Milano perché si va dritti e si arriva a Melegnano e l'orecchia destra e l'orecchia sinistra dell'Italia li scopri solo dopo decenni che abiti come me al Nord, cioè a Milano, e capisci che ci sono queste altre due aree del Nord Italia che hanno degli approcci anche molto diversi, non solo alla vita ma anche all'impresa. Qui comincio vagamente a diventare più serio. Il modo di fare impresa a Meneghino, il modo di fare impresa a Sabaudo e il modo di fare impresa vostro sono tre modi che visti da giù sembrano tutti la stessa cosa, ma visti da vicino sono abbastanza diversi. Io sono qui perché mi hanno chiamato e quindi la colpa è loro, ma io con il Revops ho a che fare sostanzialmente come Massimiliano Allegri con il calcio moderno. giorno, quindi quando mi hanno chiamato e mi hanno spiegato, io sono juventino e quindi lo dico con grande dolore, quando mi hanno spiegato l'agenda e l'obiettivo e ho pensato che avessero sbagliato il numero di telefono, insomma, poi per cortesia hanno continuato la conversazione perché ormai risultava loro difficile disdire la cosa. Poi in realtà stamattina ascoltando, quindi se vi state domandando, se qualcuno di voi si domanda che ci faccio qua sappiate che siamo in due, però ascoltando le presentazioni di stamattina devo dire ho cominciato a capire quello che Enrico in realtà al telefono mi aveva ovviamente già spiegato e a capire perché ospitare un intervento che di digital transformation, di CRM, di revenue management non parlerà evidentemente perché hanno già parlato e parleranno dopo forse anche in chiave molto pratica e applicativa le persone che di questo sanno, ospitare qualcuno che sostanzialmente nella vita ha lavorato in aziende, tra l'altro nel largo consumo, il largo consumo come molti di voi sanno è forse il settore più indietro di tutti sul CRM proprio perché come come si diceva tanti tanti anni fa la C adesso è un po' meno vero ma la C nel largo consumo è talmente larga ed è talmente mediata da step commerciale della catena commerciale intermedi che il produttore non sa chi è la C, oggi lo si sa molto di più grazie alla rivoluzione appunto digitale di internet e dei social, quando ho cominciato a lavorare io il consumatore della merendina o dello shampoo era veramente ignoto e quindi fare CRM con una persona che tu non sai neanche dove sta era fisicamente e tecnologicamente impossibile, oggi è molto difficile, molto più difficile che nel processo d'acquisto di loyalty di inglesina però è un po' più facile di quando ho cominciato a lavorare io, quindi anche su questi aspetti qua non ho nulla da dire di rilevante in questa audience, quindi perché sono stato invitato? Perché credo sostanzialmente il concetto è che anche la rivoluzione di cui gli organizzatori vogliono parlare oggi qui con voi, cioè la rivoluzione della customer experience e della gestione scientifica del processo di acquisto o di vendita è una trasformazione, è stato detto più volte, è stato usato più volte il termine trasformazione per indicare appunto che anche questo programma, questo processo, questo re-engineering di processo di cui si è parlato è in sé una trasformazione che si inserisce dentro una trasformazione più ampia di cui l'ultimo intervento molto illuminante, il paradosso della Tesla o in generale dell'autopilota mi era già stato presentato più volte e devo dire che è paralizzante per chi ha un'ottica umanistica nei confronti del mondo, per chi ha un'ottica meccanicamente ingegneristica no, ma per chi si pone temi etici e sono molto contento di essere in un posto dove in un'agenda di questo tipo si ponga l'accento su questo aspetto etico, quel paradosso è devastante, devo dire questa cosa la sapevo, quella di Google l'ho provata sul cellulare perché non ci credevo ed è così, he applied for engineering, she applied for cooking, devastante, che la dice lunga da chi dobbiamo imparare noi italiani sulla diversity e l'inclusion. Trasformazione, quindi forse sono qua perché nella mia vita ho partecipato, come molti di voi, a vicende aziendali che erano in sé delle vicende di trasformazione, di cambiamento, ma forse anche perché su queste vicende di cambiamento, su queste vicende di trasformazione ho riflettuto e ho scritto, ho scritto dei libri, mi era stato promesso che nell'introdurmi avrebbero fatto menzione che c'è un banchetto di libri, non è stato fatto quindi lo devo fare io, nel processo del papillon facciamo awareness che c'è un banchetto di libri organizzato da Feltrinari di Padova, l'industria dei libri è un'industria povera, con margini bassi, fatturati stabili, quindi vedete insomma di dare una mano a chi fa questo duro mestiere di scrivere e vendere libri. Ho riflettuto, ho scritto le mie riflessioni su tematiche legate in senso ampio al cambiamento, alla trasformazione, in realtà quello di cui parlerò oggi nello specifico e così faccio anche pre-selling del futuro sarà il contenuto del mio prossimo libro che uscirà ai primi mesi dell'anno prossimo. Il concetto fondamentale quindi è l'essere umano dentro una trasformazione, perché come è stato detto benissimo dalla presentazione proprio del collega di Inglesina, alla fine tutti i sistemi, tutti i processi, tutte le solutions, tutte le applications, tutte quelle soluzioni software che abbiamo visto prima sulle gambe degli uomini viaggiano e quindi se voi o se le società di consulenza entrano nelle aziende per proporre un cambiamento, se i capi vogliono proporre un cambiamento, alla fine questo cambiamento, almeno finché tutti non verremo sostituiti da robot, dovrà essere compreso, abbracciato, eseguito, curato, cambiato, insomma gestito dagli esseri umani, cioè da un fascio di emozioni, perché non c'è nulla di più lontano dalla verità vera delle aziende dell'affermazione molto così infantile che l'uomo managerialis è un uomo economicus, magari o no, forse neanche magari, diciamo col cavolo, che è un uomo economicus. L'uomo managerialis è innanzitutto un uomo, una donna che vivono in un fascio di emozioni, di paure, di egoismi o di altruismi, insomma di difensivismi, di mosse che non sono minimamente guidate da aspetti puramente razionali. Quindi, sono qui per parlare di esseri umani dentro il cambiamento. Per farlo però, trasformerò all'inizio la parola cambiamento in un'altra parola, che apparentemente è un po' diversa, ma in realtà è un grande, bellissimo sinonimo della parola cambiamento, che è la parola storia, le storie. Ci sono due cose che distinguono gli animali, gli uomini, gli esseri umani dagli animali. In ogni convegno tutti quanti dicono, ci sono due cose, una cosa che distinguono gli animali, e quindi ce ne sono mille, perché ognuno dice questa roba, ogni speaker dice questa roba, quindi evidentemente le cose che differenziano gli esseri umani dagli animali saranno mille. Però quelle che mi interessano oggi sono, è una in realtà. Io credo che sostanzialmente siano solo due, che è la capacità di opporre il pollice alle altre dita, questo è quello che dicono gli antropologi, e la capacità sviluppata decine di migliaia di anni fa, di raccontare delle storie intorno al famoso falò intorno al quale si trovavano gli uomini delle caverne dopo la giornata di caccia, cercando di fare cosa? Cercando di dare senso a quello che era accaduto e cercando di costruire protezione dalle paure della notte. quindi la storia, il pollice opponibile ci ha consentito lo sviluppo degli attrezzi, eccetera, la capacità di raccontare delle storie, che allo stato attuale delle conoscenze è veramente esclusiva dell'essere umano, non sembra che nessun'altra forma di vita sia capace di farlo, è quella che in realtà ha veramente creato la rivoluzione dell'homo sapiens. C'erano altri omines sulla terra quando si è sviluppato l'homo sapiens, probabilmente non erano capaci di raccontare storie la sera davanti al falò. Ora, perché la storia c'entra con la trasformazione? Perché sia la trasformazione aziendale, la trasformazione di un processo di gestione del cliente, sia la storia, hanno degli elementi in comune. Tutte e due queste cose, il cambiamento, la trasformazione e la storia, hanno un qualcosa che c'era prima, un punto di partenza, un qualcosa che c'è alla fine, la fine, e un qualcosa che accade in mezzo. Non c'è una storia, pensate a Hollywood, pensate all'antica Grecia, pensate alle serie tv di oggi, non c'è una storia che non abbia un inizio, un inizio, una fine e qualcosa che accade in mezzo. In realtà le storie sono belle per quello che accade in mezzo e se nulla accade in mezzo non sono belle, perché è quello che accade in mezzo che ci fa muovere quel fascio di emozioni, di paure, di proiezioni e che ci fa entrare dentro la storia ai neuroni specchio e tutte le altre scoperte che abbiamo fatto poi con i progressi della scienza, ci hanno fatto capire che la storia, dalla catarsi che i greci avevano intuito, ci fa crescere, perché riusciamo a vivere molte vite vivendone una sola, leggendo, no? Se uno legge dei bei racconti riesce a vivere. Ora, questa roba qua sembra poesia, ma in realtà è la stessa meccanica del cambiamento aziendale. Nel cambiamento aziendale esiste un punto di partenza, la Nokia di vent'anni fa, esiste un punto d'arrivo, la Nokia che non esiste più, ed esiste qualcosa che, e c'era qualcosa che è successo nel mezzo, la rivoluzione digitale. La Polaroid, scusate, sto un po' raffreddato, la Polaroid, esiste un punto di partenza, esiste la digital transformation dell'image printing, o come si chiama, ed esiste un punto di arrivo. Ora, se entriamo in questo argomento, io parlo di questo, voi pensate a RevOps, oppure ascoltate me e poi alla fine pensate a RevOps, ma vi assicuro che vale per qualunque processo di cambiamento aziendale. Se entriamo dentro questo mondo della trasformazione aziendale, attraverso questa lente, indossando queste lenti del racconto, il racconto, c'era una volta e alla fine, tra il c'era una volta e alla fine c'è il plot, c'è quello che succede in mezzo. Ci sono i consulenti che arrivano con le slide e con gli sprint, come si chiamano adesso gli sprint, queste frecce tutte che ti creano dei verticoli intestinali, queste cose velocissime che devono succedere in sette giorni. Prima ci volevano sette anni, adesso in sette giorni facciamo SAP, poi si blocca tutto. Entriamo attraverso tre personaggi, così con questa slide che sto per far vedere, spero che sia quella giusta perché ne ho solo due, vi convincerete definitivamente che l'invito è stato rivolto al Morici sbagliato, c'è un Morici che è un cardiologo di Palermo, forse volevate invitare lui. Questa è la slide che vi confermerà dell'opinione che è stato sbagliato il Morici. Perché? Perché io adesso faccio un quiz. Il quiz è questo, voi siete tutti uomini e donne di azienda, quindi a tutti capiterà di avere un capo o di esserlo, però di solito quando sei capo comunque un altro capo ce l'hai sopra e di dover affrontare un cambiamento. Un progetto di GraveOps o un progetto di cambiamento strategico, un progetto organizzativo, un cambiamento. Un cambiamento. Allora il quiz che adesso io faccio, però non vi chiederò di alzare le mani perché non voglio sapere la risposta. Vi chiederò di appuntarvi mnemonicamente la risposta e di non mentire a voi stessi quando tra una ventina di minuti svelerò l'arcano, che poco arcano forse è. La domanda è, ma se voi foste appunto in un'azienda che va male e che quindi deve abbracciare una trasformazione strategica importante, strategica, organizzativa, economico-finanziaria, perché va male e quindi bisogna darsi una mossa, una scossa, un cambiamento strategico. Siete nella Nokia di 15 anni fa o nella Polaroid. Di fronte a questo cambiamento chi vorreste avere come CEO? Cenerentola, Pinocchio o Michael Corleone? Ora, Michael Corleone sapete tutti chi è, non ci sono persone così giovani da non sapere chi è Michael Corleone. Ogni tanto nelle università uso degli esempi di film tipo Momenti di Gloria che i ragazzi neanche hanno visto su... però qua mi sembra che siamo insomma in una fascia protetta. Chi volete come CEO di un'azienda in crisi che deve abbracciare un cambiamento? Michael Corleone, Pinocchio o Cenerentola? Non resisto. Alzate le mani. Chi vuole Cenerentola? Pochi, 10%. Chi vuole Pinocchio? Pinocchio, 15% tendente al 20%. Il nord-est vota Michael Corleone. Vi prego di dare la notizia alla stampa. Chi vota Michael Corleone? Eh ragazzi, cioè ci sono un sacco di... diciamo 30%. Chi si astiene? Ci sono un po' di astenuti, un po' di timidi che non si astengono neanche. Chi non partecipa al voto? Comunque, maggioranza relativa a Michael Corleone. Notizia clamorosa, i pregiudizi sul nord-est sono fondati. Allora, ci arriviamo alla fine, però perché queste tre storie? Questi tre personaggi? Perché in realtà ci sono, voi sapete, ci sono tanti tipi di storie, no? I plot narrativi classici, codificati ovviamente dagli americani che codificano qualunque cosa, sono sette, no? La rinascita, il viaggio e il ritorno, la tragedia, eccetera, eccetera. Però ci sono sette plot narrativi. Se guardate i film americani, sono tutti, appartengono tutti a queste sette categorie, che è il motivo per cui i film americani vendono molto di più degli altri, perché entrano in queste scorciatoie. se parlate con un intellettuale, parlate con Nanni Moretti di plot narrativi, sviene, perché è contro il film d'autore, il plot narrativo. Il plot narrativo è proprio la meccanica con cui costruire una storia, ma questo è un altro argomento. Però c'è anche un altro modo di classificare le storie, che è proprio quello che ci interessa per la trasformazione aziendale, che è, ma cosa succede all'inizio, durante e alla fine, al personaggio chiave. E in questo caso si possono distinguere tre tipi di storie. Una storia in cui il personaggio era, come Cenerentola, una brava ragazza all'inizio. Gli succede l'ira di Dio, quella lì era figlia di un re, o comunque era figlia di un personaggio importante, benestante. Muore, la mamma muore, gli succede l'ira, questo si sposa con la donna peggiore del mondo. Quindi succede di tutto, fa tutti gli sprint di SAP, anche Cenerentola fa un sacco di sprint. Alla fine Cenerentola però finisce perfetta come prima, perfetta all'inizio, perfetta alla fine, gli succede l'ira di Dio, non cambia di una virgola, e è generosa, gentile, sorridente all'inizio e alla fine. Chiamasi favola. Non esiste, non c'è. Si chiama favola. Però non ho risposto ancora alla domanda. Mi sta fregando sul tempo, sono già passati 25 minuti, o il nord-est fa dei tempi più... sono minuti normali quelli del resto del mondo. Michael Corleone comincia, ve lo ricordate, la prima scena del padrino qual è? Il matrimonio della figlia del padrino, della figlia di Don Vito. Lui arriva, Michael, che era un eroe di guerra, vestito con la divisa. Voi sapete che per gli americani non c'è nulla di più sacro dei veterani. Quindi era l'archetipo dell'americano, figlio di famiglia mafiosa, ma lui era fidanzato con una wasp, con una ragazza americana. Era agli antipodi della sua famiglia, cioè voleva bene la sua famiglia ma era distaccato. Era l'americano integrato, figlio di italiani, non mafioso, lui, figlio di famiglia mafiosa, ma quindi era il buono. Succede l'ira di Dio, implementano SAP, e alla fine lui è il capo della famiglia mafiosa. Uccide il fratello, uccide il marito della sorella, uccide l'ira di Dio, diventa come il padre. Quindi cosa succede qui rispetto a Cenerentola? Sono tutte e due buoni all'inizio. Gli succede a tutte e due l'ira di Dio, solo che alla fine lei rimane e lui si perde. Lui perde se stesso. Lui si trasforma talmente tanto che perde la sua identità. Infatti muore sconfitto. Numero uno ma sconfitto, vincente ma sconfitto. muore senza anima. Cosa succede a Pinocchio? Pinocchio nasce Burattino, sorridente, spiritoso, che frega il papà, a lui veramente succede il finimondo, altro che SAP, e alla fine lui è felice. Il papà è felice, Geppetto, sono tutti felici, ma lui non è più un Burattino. Lui è un bambino e si prende cura del papà e si prende cura pure della fata, turchina, come si chiama, turchese, turchina, che non era morta come lui pensava. Quindi lui, alla fine, dall'essere il Burattino che ha venduto la giacca del padre, l'abecedario, ha fatto di tutto, è diventato un bambino in carne e ossa responsabile, però non ha perso la sua identità, non ha perso la sua anima, non è come Michael Corleone, è cresciuto. È cresciuto. Cioè ha integrato la sua anima iniziale, da bambino, nel suo essere adulto. Quindi l'implementazione di SAP, che è successa in mezzo, lo ha influenzato nella trasformazione, lo ha influenzato, lo ha cambiato, è diventato da bambino, è diventato adulto, ma non gli ha cambiato lo sguardo, è sempre lui. Mentre lo sguardo di Michael Corleone è un altro sguardo, è uno sguardo spento, triste, è un'altra persona. Pinocchio non è un'altra persona, è sempre lui, ma è cresciuto, ha accettato dentro di sé il cambiamento. Questo per dire, in termini un po' più professionali di quanto facesse la slide precedente, che qualunque trasformazione ha a che fare con questi tre tempi. Questo lo trovate in un mio articolo pubblicato su LinkedIn e lo troverete raccontato in maniera un po' più estensiva nel libro che uscirà a gennaio-febbraio, che non è uno dei tre libri che potete comprare nel banchetto qui accanto. I tre tempi che possono essere intesi come tre tempi della leadership o tre tempi anche dell'azienda e quindi tre tempi del cambiamento aziendale. Il futuro, il passato e il presente. Io faccio sempre così, parto dal futuro, passato e arrivo al presente, mentre di solito ti dici presente e passato tutto. Perché? Perché se noi siamo qui a ragionare di azienda, a ragionare di trasformazione digitale, a ragionare di customer experience, è perché l'uomo d'azienda, sia esso imprenditore o manager, ha a cuore innanzitutto il futuro. Quasi tutti i grandi leader visionari, imprenditori, creatori, fondatori, se andate a vedere le citazioni, la parola futuro ricorre molto spesso. Quasi tutti i grandi fondatori non sapevano neanche quanto fatturavano alcuni, perché quello che gli interessava è quanto avrebbero fatturato l'anno prossimo. Molti fondatori non gli interessava la festa di Natale per celebrare i risultati dell'anno passato, perché erano già sul canvas del trimestre successivo. Il futuro è quello che rende l'impresa sostenibile. Che cos'è il futuro? È il progetto, è la strategia. Quello che abbiamo visto oggi nelle presentazioni della prima parte della mattina, gli strumenti per disegnare il futuro del customer journey sono strumenti razionali. Il futuro è una dimensione logica, è una dimensione in cui io posso con la parola descrivere, come è stato fatto, quello che è il luogo verso il quale dobbiamo andare. Quindi il futuro è il progetto strategico dell'impresa ed è evidentemente di grandissima rilevanza. Il futuro si porta con sé un tipo di leadership, appunto, come dicevo prima, che possiamo chiamare una leadership visionaria. Pensate a Steve Jobs, che parlava solo di prodotti futuri. Delle tecnicalità, dei problemi, del presente, dei vincoli non gli interessava. Parlava solo del prodotto. Il leader visionario è un leader interessato all'innovazione, è un leader interessato all'arendi, al nuovo, perché è il nuovo che creerà, sposterà la frontiera più in là. Ma se il futuro è una parola molto attraente, il passato è una parola inevitabile. Il passato che cos'è? Spesso la parola futuro in azienda gode di una reputazione quasi esageratamente positiva. La parola passato gode purtroppo di una reputazione immeritatamente negativa. Perché il passato è una roba bellissima. Il passato è l'identità, il passato è la cultura, sono i valori, le abitudini. Quello che fanno le persone quando voi che siete i capi non le guardate, non le osservate, quella è la cultura della vostra azienda. Quello che accade quando i capi sono tutti in un off-site. Come vengono prese le decisioni, come ci si comunica tra reparti. Quelle anche inefficienze o quelle efficienze, per esempio, tutte italiane di saper far funzionare le cose senza un processo. Come nella cosa della rotonda dell'Arc du Triomphe, è bellissimo, perché effettivamente mi sono sempre domandato come fanno lì. Quella lì è la cultura di un'azienda, quello è il passato. Ma è la forza, è l'identità nei confronti dei vostri clienti. La vostra azienda è quello che è stata, perché quello che sarà glielo potete solo raccontare. Ma quel cliente di Leaky Gas che tutti i giorni ha a che fare con i reparti di backstage, ha a a che fare con la cultura, con le persone, con i valori che vengono dal passato. Quindi il futuro è il progetto, il passato è l'identità. È anche l'eredità. Peter Drucker diceva che la cultura si mangia la strategia a colazione, che è una delle citazioni che io faccio sempre, perché descrive benissimo la differenza tra PowerPoint e la vita vera. La strategia, il futuro è PowerPoint, perché lo puoi solo raccontare. Se sei bravo lo racconti senza PowerPoint, ma sono sempre parole, come faceva Steve Jobs nei suoi keynote speech, parlava, descriveva il telefonino, ma erano parole. Il passato è roccia. Il passato è la cultura. Se le persone si comportano tutti i giorni in maniera ostativa, incompatibile con il disegno strategico futuro. Il disegno strategico futuro non accade. Un'azienda che fa prodotti di alimentari shelf stable, cioè a temperatura ambiente, se arriva un nuovo CEO e dice no, noi dobbiamo fare fresh, cioè temperatura 0,4 gradi. Le cose che vanno fatte tutti i giorni nel reparto produzione, logistica, qualità, customer service, amministrazione, sono talmente diverse che le persone non sono capaci di farlo. Non lo fanno. Anche se glielo impone, fanno finta. Poi il progetto fallisce. Dov'è che fallisce? Nella coerenza interna del futuro? No, fallisce nella coerenza esterna tra futuro e passato. Sono due cose incompatibili. a meno che non si gestisca il cambiamento, cioè il CEO, il gruppo di leadership, non si preoccupi di rendere compatibile il passato col futuro. E poi c'è il presente. Il presente cos'è? È quello che vi porta a guardare il telefonino anche mentre siete qua ogni tanto per vedere se l'ordine è partito, per vedere se gli ingredienti o i raw materials sono arrivati, per vedere se lo sprint di SAP è partito, per vedere se le vendite sono in linea, per vedere se il profitto, l'energia, la bolletta, l'organizzazione è il presente, le persone sono il presente. Oggi l'azienda è fatta da una piramide organizzativa, che è quella che avete deciso ieri, che è fatta di un certo sistema di deleghe, di empowerment, che opera sulla base di un mandato. Questo è il presente. Ora voi capite che la leadership visionaria, che si occupa solo del prodotto nuovo e se ne frega delle vendite e se ne frega dell'organizzazione di oggi, delle persone, del benessere delle persone e se ne frega della cultura, dell'identità, dei valori, dell'eredità, va bilanciata. Così come le leadership operative, che sono queste qua, le leadership degli ex direttori vendite, per capirci, o anche degli ex direttori di produzione, cioè quelli che stanno coi piedi per terra e pensano al prossimo trimestre e basta, beh, attenzione. Se l'industria è un'industria certa, in cui non succede nulla di nuovo, in cui quello che compra oggi comprerà domani, allora va bene, la leadership operativa ti assicura risultati. Altrimenti, se non anticipa il cambiamento, la leadership operativa va efficientemente a sbattere contro un muro. La leadership identitaria, sono quelli che se i CEO fossero eletti, sono quelli che sarebbero eletti dall'organizzazione, quelli che hanno la pancia in comune con l'organizzazione, quelli che hanno i valori, che quando girano nei corridoi, nei reparti, nei magazzini, la gente li saluta, uno di loro, no? Quella gente lì sa benissimo cos'è la cultura e i valori di quell'azienda, sa cosa la gente farà più o meno fatica a fare, sa tutto dell'azienda, del business model, della cultura, però magari non sa niente del presente e non sa niente del futuro. Ora, voi capite, per questo l'ho chiamata leadership equilibrata, non è che dobbiamo essere tutti supereroi e essere bravi nel presente, bravi nel futuro, bravi nel futuro, ma dobbiamo capire chi siamo come leader e circondarci di persone che ci aiutino a completare il nostro profilo. Per cui se sei un leader visionario, assicurati di avere un capo operations o un capo commerciale che ti presidia il presente, magari un direttore HR, bravo sulla cultura. Se sei un leader visionario, un leader operativo, trovati un CMO o un capo strategie che ti aiuta a guardare al futuro. Se sei un leader identitario, insomma, avete capito il meccanismo. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che quando devo abbracciare o guidare un cambiamento, mi devo occupare delle due parti del cambiamento. Quella superiore, vedete la linea del cambiamento strategico. Il cambiamento strategico porta l'azienda su un piano molto razionale, molto corticale, si diceva prima, dal passato, il telefonino Nokia 6310, al futuro, un telefonino Nokia, uno smartphone Nokia che magari devono fare prima di altri. Il prodotto, la strategia, il go to market, il CRM, è molto razionale. Ma se io non faccio combaciare questo cambiamento strategico, con il cambiamento sotto la linea del mare, guardatelo come un iceberg, metafora usata tante volte nel management, sotto la linea del mare c'è il cambiamento culturale. Perché la Polaroid non ha fatto il digital printing prima di altri? Perché lo Space Shuttle si è schiantato anche se i tecnici lo sapevano, che quell'adesivo non teneva le piastrelle a certe temperature. Perché la cultura di quella azienda, NASA, in quel momento era una cultura avversa al dissenso. E quindi quei pochi tecnici che lo sapevano non si sentivano culturalmente incentivati a dire che c'era un problema. Perché la cultura della NASA era diventata da una cultura tecnica, tecnocratica. Sapete che la NASA è stata creata, si deve dire a voce bassa, ma da, diciamo, i tedeschi che negli anni 40, fine anni 40, erano andati verso ovest, quindi una cultura tecnica molto forte. Era diventata una cultura economicistica, insomma, una cultura dell'efficienza molto americana, molto economica, per cui rapporto costo-beneficio, il progetto deve andare avanti, sapete come sono fatti gli americani. Ecco, da una cultura tedesca, tipo SAP, a una cultura americana, lo Space Shuttle quell'anno si schiantò. Perché? Perché al cambiamento strategico non era seguito il cambiamento culturale, non avevano tenuto insieme le due dimensioni. Ora, e qui vedete poi tutte le varie parole che poi potete vedere su internet, le skills, analisi e comprensione, anticipazione e guida, delega e organizzazione, le attitudini, la comunicazione, va spiegato il futuro, l'ingaggio, io ti devo portare con me emotivamente dal presente al futuro e l'empatia, per capire il passato ci vuole empatia. Non è che io per capire il passato dell'azienda arrivo da fuori, sono un CEO nuovo, arrivo da fuori, per capire il passato faccio un questionario o parlo col mio leadership team al quo a due giorni di off-site. No, tu devi andare giù, devi andare nei reparti, devi andare nei corridoi, one to one, one to one, ascoltare, non parlare, ascoltare, per capire il passato bisogna ascoltare. Ora, cosa c'entra tutto questo giro del fumo? Adesso mi porto via il telecomando dal nord-est, con i nostri leader. C'entra perché il vero cambiamento, che non riguarda solo, adesso traslate dal leader all'azienda, che è quello che ci interessa forse di più oggi, il vero cambiamento è quello che tra il passato, il presente e il futuro, integra le tre dimensioni. Cioè Pinocchio. Perché il cambiamento aziendale che rompe con il passato, anche nel caso di Polaroid, anche nel caso di Nokia, un cambiamento che rompa con il passato in maniera traumatica e si occupi solo del futuro, nella convinzione razionalmente fondatissima che quel futuro genererà un presente profittevole e di soddisfazione, è una tattica che ti fa arrivare probabilmente a destinazione, ma che quando ti giri non c'è nessuno dietro di te. Perché la gente che va al lavoro non smettendo di essere umani e quindi va al lavoro in quanto fascio di nervi, di emozioni, di abitudini, di eredità, di mandati. Pensate alla fedeltà che c'è umana, emotiva, tra una persona e il suo capo che è andato in pensione dopo 30 anni che ha lavorato con lui, nella contabilità. Quella persona lì si comporterà, come gli dice il CEO che sta, il nuovo CEO che sta 8 livelli sopra di lui e che non vedrà mai, o come quel capo della contabilità con cui è stato 30 anni e che quando ha avuto il figlio malato l'ha aiutato e ci ha parlato. questo è il passato, questo è il passato. Allora se un'azienda non si occupa di integrare il passato con il futuro non va da nessuna parte, ma se un'azienda come molte aziende familiari italiane di quel passato rimane vittima perché o non si sa disegnare il futuro o si ha paura di disegnare un futuro per quanto diverso è, perché caspita ma noi questo prodotto qua facciamo. E se il mercato va da un'altra parte, e ho capito, ma noi questo prodotto qua facciamo. E facciamo i televisori in bianco e nero quando il mondo va da un'altra parte. Se le aziende rimangono prigioniere di quel passato e prigioniere di quegli schemi di fedeltà psicosociale, emotiva, personale, verso il passato, non va bene lo stesso, perché rimaniamo tutti belli, ho finito il tempo, rimaniamo tutti belli uniti che ci vogliamo tutti bene, tutti intorno al nostro falò, ma finisce la legna e poi fa freddo e poi arrivano i lupi e la Nokia non fa più telefonini. Così come se nel cambiamento non ci proteggiamo solo con il cappotto dell'identità, dei valori, la retorica dei valori è una retorica importante ma pericolosissima in azienda. La retorica dei valori è spesso la premessa della retorica del pensiero di gruppo. Il groupthink è quello dello shuttle in cui se tu provi dissenso, manifesti dissenso, manifesti slealtà verso il gruppo. Attenzione, i valori sono una roba delicatissima, pericolosissima. Ma non c'è solo il cappotto dei valori, c'è anche il plaid del presente. No, 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 non ci dobbiamo occupare delle vendite, le vendite, vendite profitti, vendite profitti domani, domani, domani. Con questa retorica qua ti perdi il passato e ti perdi il futuro e ti perdi l'azienda. Quindi perché Pinocchio? Perché Pinocchio riesce a crescere perché il Pinocchio della fine delle avventure di Pinocchio, quindi del futuro, è molto diverso dal Pinocchio dell'inizio. Ma come ho detto prima, si porta dentro il bambino, il burattino che era lui all'inizio. Se lo porta dentro come ciascuno di noi, si porta dentro, sperabilmente, gli occhi e lo sguardo di quando eravamo ragazzi. Se siamo degli adulti felici, abbiamo, ci sentiamo sempre molti meno anni di quanti ne abbiamo. Perché? Perché noi non ci vediamo da fuori, coi capelli grigi e un po' di... Noi vediamo il mondo come lo vedevamo da piccoli. Però abbiamo acquisito anche, abbiamo integrato anche la capacità di equilibrio, la capacità di ascolto, no? Che Dio c'è ma non sei tu, che il noi è più importante, che il noi è più importante dell'io, no? Dopo i 40 anni ci si dovrebbe arrivare. Se uno ci arriva prima, magari è troppo presto. Se tardi troppo dopo i 40 a capire che il noi è più importante dell'io in azienda, beh, forse è meglio che fai un altro mestiere. Quindi, Michael Corleone no, perché il cambiamento, troppo cambiamento, e alla fine vai a fare un'altra azienda e quindi ti perdi tutti quelli di prima e soprattutto perdi te stesso. Cenerentola, sorry, ma le favole non esistono. E il buon Pinocchio è il miglior caso di leadership che posso portare qui al Quoa oggi, sperando di aver risposto alla domanda. Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe. Intanto sono contento che abbia vinto Pinocchio perché era una delle mie fiave perfette quando ero ragazzino e uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando i miei genitori mi hanno portato a Collodi. Sei mai stato? No, non sono mai stato. A Collodi in Toscana c'è un piccolo paesino dove c'è tutta la storia di Pinocchio, puoi viaggiare, puoi entrare dentro la balena, giornate stupende. E comunque adesso credo che vi sia più chiaro come mai abbiamo invitato Giuseppe perché tutti i progetti che facciamo in azienda sono progetti di cambiamento, generalmente, i progetti organizzativi, i progetti di digital transformation, gli stream e gli sprint di SAP. Tutti sono progetti che richiedono sforzo, richiedono energia da parte delle persone e per imprenditori, per i manager è sempre difficile trovare la chiave di lettura giusta per portare avanti con successo questi lavori. Quindi grazie ancora e volete andare a trovare Giuseppe per qualche minuto. il banchetto è di là.